Huawei a IFA di Berlino ha presentato Huawei Nova Plus, la versione Plus del Nova, stiamo parlando chiaramente di un dispositivo dal display 5.5 pollici, davvero molto risoluto, stiamo parlando di un Full HD, si vede molto bene, abbiamo uno processore Snapdragon 625, una batteria con ricarica rapida da 3340 mAh, la fotocamera posteriore è da 16 megapixel con un dual LED flash e poi abbiamo il sensore biometrico per sbloccare. Il nostro terminale con l'impronta digitale, la fotocamera frontale da 8 megapixel ci permette di scattare buone foto selfie, l'abbiamo provato chiaramente in fiera e poi abbiamo USB Type-C per la ricarica e chiaramente per andare a condividere i nostri dati con il computer, Android in versione 6.0 Marshmallow con le Motion UI che ormai è davvero una interfaccia che sta piacendo a tanti di voi. Il prezzo 429 euro arriverà molto presto in Italia, si parla di ottobre e chiaramente lo vedremo anche sui nostri canali aspettando che Huawei ci mandi un device.